Si deve di fare Italia, sempre, perché comunque siamo un paese bellissimo. Sempre Forza Italia, eh? Sempre! E' bellissimo, si deve di fare Italia, sempre, perché comunque siamo un paese bellissimo e quindi dobbiamo fare un casino e fare un bordello. Sempre Forza Italia, eh? Sempre! Una sorta di trequartista, ma questa volta mi sta facendo di più, è come se... Grazie! Grazie! Grazie, grazie! 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 Grazie mille! Sì, è vero. Vai di là, vai di là. Vai di là, vai di là. 2006. È una grande Italia, non dobbiamo emozionarci, non dobbiamo esaltarci perché abbiamo giocato contro due squadre molto scarse, però abbiamo una buona squadra, secondo me possiamo con umiltà, testa bassa, possiamo arrivare da qualche parte, possiamo andare. Siamo stati tranquilli qua in un bar, abbiamo esultato, fatto un po' di cori, niente di che, è molto bella l'atmosfera, tutta Roma è qua a tipare per gli azzurri. Grazie. Grazie. Grazie a tutti